Connessione Sud, a Montepaone l'eccellenza agricola calabrese come simbolo di qualità e rinascita economica. La campagna di sensibilizzazione del progetto culturale Naturium con lo slogan Connessione Sud aggiunge un nuovo capitolo alla sua missione. Tra le numerose eccellenze prodotte dalla natura calabrese spicca l'uva da tavola di Monasterace recentemente presentata dal fondatore di Naturium Giovanni Sgro nella sede di Via Nazionale a Montepaone Lido. L'uva di Monasterace rappresenta un chiaro esempio di ricchezza agricola meridionale e di qualità da portare sulle tavole. In linea con l'obiettivo di valorizzare i prodotti agroalimentari locali, Sgro considera questo progetto come il primo passo verso un riscatto economico e sociale del mezzogiorno, invitando i consumatori a sostenere la causa con il messaggio Compriamo prodotti del Sud. L'uva di Monasterace è l'emblema di un territorio, quello di Onnico Reggino, che dalla Magna Grecia ad oggi tramanda storia e buon cibo. Con questa iniziativa Naturium non solo punta a promuovere le eccellenze locali, ma anche a risvegliare un senso di appartenenza e orgoglio tra i consumatori, incoraggiando un consumo consapevole e sostenibile.